Il corso è ancora riservato ai gentlemen in 11 al Via Angelica, Valpicetto Jet, Albai DBL, Solimano, Atena Del Ronco, Arcobaleno in prima fila, in seconda, Uragano Stecca, Uranio Griff, 01 MMG, Bayron Del Ronco e Viola Orsini. Pronostico che vede Valpicetto Jet favorito in chiusura, numero 2 dello schieramento, Albai DBL l'alternativa principale, macchina che accedera, partiti con la velocità iniziale di Solimano che sorprende tutti e va a condurre, parte molto bene anche Arcobaleno che cerca di accodarsi in seconda posizione, davanti ad Angelica e vi riesce, si sistema quindi in schiena Solimano che guida, Arcobaleno in seconda posizione, poi muove a largo però, non intende stare sotto, intende correre al comando, Arcobaleno vedremo le mosse di Solimano che però a sua volta vuole correre davanti e quindi completa un quarto iniziale comunque sostenuto in 29,6 e ora all'esterno cercano di farsi luce Valpicetto Jet, Viola Orsini, Bayron Del Ronco scusate, viene in terza ruota Bayron Del Ronco ma è contenuto da Valpicetto Jet che si porta sui primi e dopo 600 metri arriva a ridosso della pariglia di testa ma è ancora un po' distante, 46,2, intanto il passaggio è 600 con Solimano che conduce, Arcobaleno in seconda posizione, poi all'esterno Valpicetto Jet con in terza ruota Bayron Del Ronco, gli 800 in 1,1 e 2, c'è stato rallentamento nel secondo quarto, percorso in 31,6, siamo sulla penultima piegata, sempre Solimano a fare l'andatura, si impegna percorsi esterne, Valpicetto che affianca Arcobaleno, chilometro iniziale in 1,16,9, frazione in 15,7, a questo punto attacca con estrema decisione Valpicetto Jet che sul punto di passare a 500 dal palo scende in corda e cerca di prendere subito vantaggio, 400 alla conclusione, ora un parziale svelto in 14,9, Bayron Del Ronco calato, in seconda posizione passato Uranio Griff, vediamo intanto il tentativo anche di 0,1 MMG, ma ha preso molto vantaggio intanto Valpicetto Jet che entra nettamente in testa, addirittura d'arrivo, Valpicetto Jet nel finale allunga ancora e si isola per venire a dominare questa seconda prova, gentleman, Valpicetto Jet davanti a 0,1 MMG al terzo posto, conclude Uranio Griff, 1,15,5, raguaglio conclusivo con un bel 29,7 a chiudere, ma vittoria il supless per Valpicetto Jet che scufia porta a una bella affermazione dopo percorso scoperto all'esterno, sfonda i 400 finali, poi si isola in arrivo per concludere netto vincitore e vince quindi questa seconda corsa riservata ai gentleman, Giuseppe Palanga al training per conto del signor Gerardo Palmentieri, Valpicetto Jet. Grazie a tutti